Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di Stellar Blade. Oggi vedremo come fare a prendere e completare la quest secondaria Arca Perduta. Ce l'ha da Mann a Xion, proprio vicino Orkal. Parliamo con Mann. Scegliamo Estremista. Abbiamo preso la missione Arca Perduta. Il primo passo sarà quello di andare nel veicolo qui e cercare il ribelle scomparso. Adesso, grazie alla potenza dell'editing, ci troviamo fra un secondo lì con il teletrasporto. Arrivati nel veicolo, dobbiamo indagare sul ribelle scomparso che si trova esattamente qui. Successivamente, dobbiamo andare a esaminare l'Arca. Saliamo una rampa di scale. Usiamo un dispositivo. Ci chiede un codice di accesso, noi non sappiamo la soluzione. Non ho idea di cosa sia. Potrebbe essere una base per attività. Un attimo. Dobbiamo cercare un altro indizio. Sta proprio qui dietro. Lo esaminiamo. E l'indizio sostanzialmente ci dice che c'è un rompicapo che dobbiamo risolvere e che dobbiamo ruotare Xion in senso orario. Quello che dobbiamo fare è attivare questi terminali che troviamo per la città. Il primo sta proprio nel veicolo. Sono in tutto a sei terminali. Sicuramente. Dovrò indagare più a fondo. Andiamo a indagare. Allora ragazzi, sono uno, l'abbiamo trovato. Ce ne sono altri cinque. E dobbiamo andare in senso orario. Il secondo lo troviamo proprio qui sotto le scale. Naturalmente ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. In descrizione e nel primo commento trovate anche il link alla playlist completa del gioco. Questo è il secondo terminale. Sta esattamente qui sotto il telefono. Per il terzo terminale dobbiamo andare alla bacheca delle quest. O perlomeno in quella direzione. Giriamo a sinistra. Qui c'è il tizio che ci vuole dare un'altra quest. Non la prendiamo al momento. E troviamo nell'angolo il terzo terminale. Esattamente qui. Adesso dobbiamo andare alla libreria per trovare il quarto terminale. Usciamo per di qua. Giriamo a destra. Esattamente qui troviamo il quarto terminale. Il quinto terminale sta in un posto un po' nascosto. Sono stati un po' cattivi. Dobbiamo arrivare dalle sorelle rottamaie. E lo troviamo proprio sotto la prima rampa di scale. E uno non si gira per guardarlo. Negozio di liquori a sinistra. Oramai ragazzi. Xion. La sua memoria. Senza nemmeno tutto città. Qui troviamo il terzo terminale. E l'ultimo lo troviamo al bar sostanzialmente dove abbiamo preso la quest. Quindi torniamo indietro. Li abbiamo fatti esattamente in senso orario. E questa cosa poi è abbastanza importante. Perché la quest non ci aiuta. Dopo vi faccio vedere. Dovrei aver esaminato tutti gli schermi. Brava Iva. Se le metto insieme non c'è... Adesso possiamo tornare all'arca. Peccato che in città non le fanno usare il turbo. Perché comunque ci vuole un sacco di tempo per spostarsi. Torniamo all'arca. Usiamo l'indizio. Vedete? In basso a sinistra c'è la mappa. Uno direbbe che la soluzione è OKR. E invece non è così. Purtroppo il Gecko non lo conosco. Quindi diciamo che questa è una O. Il terminale successivo era la U. Non era la K. Quindi U, K, A, E, ed R. Andiamo a indagare. Ci aprono le porte. C'è un umano morto qua a terra. Utilizziamo anche la leva. Qui scendiamo giù. Allora ragazzi. Qui bisogna indagare un secondo. Ci dovrebbe essere un umano qua per terra. Ne dobbiamo trovare quattro. Un altro sta qua dietro. Il primo l'abbiamo già trovato all'inizio. E un altro dovrebbe stare più o meno... Eccolo qua. Perfetto. Passo successivo. Attiviamo questo terminale. Si è chiusa. Dobbiamo evadere dall'arca. Quello che dobbiamo fare è distruggere questi terminali. Appena ci ridà il controllo... Uno. Due. Si aprono queste porte. Prima di andare da quella parte però... C'è un altro terminale qua dietro. Che distruggiamo. Naturalmente ci possiamo mettere tutto il tempo che vogliamo. Questa cosa qui... Dell'allarme serve solamente a metterci di fretta. Accendiamo la leva. E... Usciamo fuori. E per aprire la porta dobbiamo distruggere questo altro terminale. Maledizione. Non voglio credere che sia stata opera di un umano. Forse la situazione qui sulla terra era così disperata che sono impazziti. Andiamo. Per completare la quest dobbiamo tornare ad Aman. Adesso ci torniamo un secondo così vi faccio vedere anche la strada se l'avete dimenticata. Ma è altamente improbabile. E vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto è lasciate un like. E aiutate tantissimo il canale. Scendiamo giù. Metropolitana. Anzi metropolitana verticale. Facciamo queste altre due porte. Purtroppo il sistema di teletrasporto di questo gioco lascia molto a desiderare. Con l'espansione del personale. Scegliamo di nuovo estremista. Ho trovato l'estremista. E la cui credo che l'estremista abbia mentito agli altri cittadini. Ha detto loro che Orkal sta... Davvero? Grazie comunque. Ci occuperemo. Ragazzi. La quest e il tutorial finiscono qui. Noi ci vediamo domani con un nuovo tutorial di Sterlal Blade. Ciao. Ciao.